Come stai? Dopo Sanremo, dopo tutto il turbinio di emozioni? Sto bene, sono un po' stanco ma sto bene anche in questa stanchezza qui, anzi non mi voglio fermare, voglio continuare a fare cose e ne ho un po' da fare adesso. Questo mi aiuta anche a pensare a quella cosa lì però già a proiettarmi verso il futuro, quindi ho comunque il presente perché insomma ci sono un bel po' di cose da fare. Futuro, domani esce il disco. Quanto ti sei divertito a livello di arrangiamenti con questo disco? Tanto, mi sono divertito proprio a usare anche la mia voce come strumento per arrangiare. La maggior parte dei brani sono nati a casa, davanti al mio computerino, quindi registravo, partivo dall'idea, vabbè facciamo un piano e voce, un chitarra e voce, tanto poi invece non riuscivo a fermarmi. La prima cosa era proprio provare ad arrangiare con la voce, quindi ho lasciato tantissime di quelle prime cose fatte nelle registrazioni iniziali, le ho lasciate poi all'interno dell'album. Questo pone anche dei quesiti sui prossimi live perché insomma non sarà facile ma sarà un modo anche per ampliare forse lo spettro sonoro. È un album dove troviamo da una parte Antonio ma dall'altra il mondo che ci circonda, come le imprecazioni perché uno si è buttato sotto un treno e non ci pensi a quello che è successo ma pensi un po' egoisticamente a quello che devi fare tu o come il commerciante. Qual è questo dualismo che tiene insieme un po' tutto l'album? Beh, credo sia il dualismo di tutti noi, siamo tutti così, abbiamo tutti la sensazione di essere noi da una parte e tutto il resto del mondo dall'altra. Qui in questo album volevo provare proprio ad immergermi anche proprio nel mondo, no? Farlo entrare anche dentro di me, provare a raccontare ciò che ho provato quando ho entrato. Devo dire, ci sono anche dei brani che sono nati appunto come il commerciante così, da un incontro improvvisamente è venuta fuori questo flusso di parole e di considerazioni sulla società. Dall'altra c'è il mondo che interviene ma che mi fa venire poi delle considerazioni quasi più personali anche, no? Sulla mancanza di, sì, di empatia della società ma di quando è successo anche a me di non averne perché magari c'era qualcosa che secondo me era più importante, ma cosa c'è di più importante della vita di una persona per quanto possa essere un altro da te. Niente, questo insomma si lega poi a tante cose di cui abbiamo sentito parlare in questi ultimi anni anche e soprattutto nel nostro paese, quindi volevo ci fosse tutto questo anche in questo lavoro. E invece dal punto di vista intimista non voglio... Dal punto di vista intimista c'è il vissuto, ma credo sia tutto intimo poi, no? Anche quando guardi alla società, alla politica, ci metti la tua intimità dentro. E poi ci sono storie vissute, finite, c'è il gioco di cose anche più leggere, però ho capito che è l'unica cosa che so fare poi, cioè se non racconto questa cosa qui non saprei di cosa parlare, anche quando c'è uno sguardo su qualcosa che può sembrare distante da me cerco di non mettermi mai io da una parte a quello che dicevamo all'inizio, no? Tutti abbiamo quella sensazione, però se non fai entrare quelle cose non le puoi neanche analizzare davvero perché non ci sei tu, non le capisci davvero. E all'Eurovision come ti stai preparando? Oh, bene, sto parlando così perché questo è il mio inglese, quindi... No, no, mi sto preparando, ma ancora non ci sto pensando, comincio a pensarci perché cominciano a taggarmi in video, in cartelli sull'Eurovision, ma più che altro sto pensando a come provare a tradurre anche visivamente ciò che voglio portare, quindi fai rumore, però sono contento di portare la lingua italiana, di essere, di rappresentare il mio paese, è una cosa che mi fa sentire molto felice, quindi ben venga, sono veramente contento di aver detto sì subito quando me l'hanno chiesto in sala stampa.